16 dicembre 2015 in compagnia di Pierpaolo Segneri facciamo alcuni commenti diciamo questa potrebbe essere una seconda puntata un consuntivo relativamente al romanzo cosmico che è il romanzo che Pierpaolo ha scritto in questi mesi un romanzo per il web romanzo cosmico detto bene il titolo in che mondo viviamo e che è uscito in varie puntate sul web è stato molto apprezzato chiediamo ovviamente a Pierpaolo qualche commento alla fine di questa pubblicazione come si è soddisfatto insomma di questa creazione e so che ci farà diciamo delle delle rivelazioni che insomma sono abbastanza particolari sul significato di alcune cose che erano scritte in queste puntate di questo romanzo grazie Gianni grazie a Liberi.tv siamo riusciti a portare a termine la pubblicazione di questo romanzo cosmico in che mondo viviamo in realtà questo romanzo io l'ho scritto tra il luglio e il dicembre 2006 poi la pubblicazione avvenuta invece tra il luglio e il dicembre 2015 cioè di quest'anno è stato costruito intorno a un diario alchemico e per cui è intriso anche di riferimenti simbolici allegorici metafore e in particolar modo anche su quello che è l'aspetto della numerologia per esempio ti ricorderai anche i telespettatori ricorderanno che registrammo l'intervista la prima proprio per il lancio del romanzo cosmico in che mondo viviamo il 25 luglio era esplicitamente per ricordare la figura di Luigi De Marchi che proprio in quel giorno ricorreva l'anniversario in quanto mio maestro riferimento anche per tanti vari aspetti e soprattutto perché lui parlava della rivoluzione cosmica e il 25 luglio era l'anniversario della scomparsa avvenuta nel 2010 ma anche oggi cioè i vari appuntamenti non sono casuali siccome i capitoli sono 21 perché il numero 21 ha un significato il numero 21 anzitutto è l'amicizia quindi l'unità la capacità di stare insieme ma è la lealtà e la fortuna il numero 21 ha una serie di significati ma soprattutto è 7x3 infatti 7x3 21 è considerata la triade del cammino umano infatti la storia dell'avventurosa fantasia all'interno del percorso umano ripercorre proprio questa triade la cui figura geometrica la rappresenta è proprio la spirale per esempio oggi facciamo un esempio non è un caso che ti ho chiesto di fare questa intervista perché oggi è 16 dicembre e il 16 è 6 più 1 7 dicembre è 12 quindi 1 più 2 3 quindi è 7x3 21 ed è diciamo il numero che ricorre anche l'ultima puntata del romanzo l'ultimo capitolo è stato pubblicato rimantenendo sempre il lunedì il 7 dicembre anche lì 7 dicembre 2 più 1 3 era 7 per 3 21 e quindi ovviamente perché il 20 luglio per esempio abbiamo iniziato il primo capitolo con la pubblicazione del 20 luglio perché il 20 luglio è l'anniversario dell'allunaggio dell'apollo 11 cioè dell'arrivo quindi dell'uomo sulla luna essendo un romanzo cosmico ci sembrava già un'idea partire da una data precisa che ricorlegasse oltre ovviamente al progetto viking cioè quando il 20 luglio 1976 proprio la sonda viking arrivò su marte e anche lì è il 20 luglio anche qui l'elemento cosmico e del resto il riferimento è l'ultimo capitolo alla sonda che è New Horizons che è proprio il 14 luglio invece di quest'anno del 2015 ha fotografato la superficie di Plutone arrivando per la prima volta appunto al ridosso di Plutone e fotografando praticamente un cuore stilizzato disegnato sulla superficie come a dire il futuro ha bisogno d'amore e il 14 luglio è ovviamente una data particolare oltre a ricordare la presa della Bastiglia nel 1789 ma ricorre ovviamente anche il significato di libertà, uguaglianza e fraternità che erano i valori della rivoluzione francese poi coincide anche con il fatto che è l'onomastico di Camilla siccome il romanzo è stato ispirato da mia moglie quando l'ho conosciuta appunto nel 2006 ecco il 14 luglio è anche il giorno di Mizar cioè riferito al personaggio e anche la presentazione ufficiale che facemmo al Teatro Arciliuto di Roma un piccolo teatro ma importante con una certa carica anche artistica universale emotiva anche emozionale e l'abbiamo fatto il 30 settembre anzitutto sempre a livello di numeri per il 30 settembre il 30 è il 3 settembre è come dice 7 era sempre 3 per 7 ma non solo c'era anche la volontà di farlo il 30 settembre perché il 30 settembre è anche il giorno e il mese in cui Amadeus Mozart fece la prima messa in scena della sua opera Il flauto magico a Vienna in un piccolo teatro di Vienna e quindi il riferimento anche questa volta a Mozart e a questo elemento diciamo alchemico del flauto magico ce ne sono tanti riferimenti che ricorrono e penso che sia divertente anche andarsene a vedere per esempio c'è stato un lettore, Marco, che ne ha trovato uno molto interessante dice Pierpaolo Segneri Pierpaolo, come avevo detto anche era un omaggio a Pasolini comunque io mi chiamo Pierpaolo staccato come Pasolini lui dice a Pierpaolo Segneri ha detto Marco scrivendomi sono tre parole ma se contiamo tutte le lettere del nome e del cognome vengono 16 lettere ma 16 è 6 più 1 e quindi 3 per 7 e quindi ancora 21 insomma è ricco di questi elementi il romanzo è disseminato di riferimenti simbolici particolari che penso abbiano dato un valore in più perché c'è un simbolo dietro e dietro a un simbolo c'è un significato e tutto questo era stato pensato, riflettuto prima a cominciare da questa intervista di oggi altri riferimenti ci sono comunque si può andare su fattidicultura.net c'è anche una mia lettera ai lettori che ho scritto dopo l'ultimo capitolo il ventunesimo in cui appunto faccio dei riferimenti a queste cose che stavo dicendo e la lettera si chiama I numeri segreti del romanzo cosmico Perfetto, allora Pierpaolo diciamo che oltre a avere queste verità da scrittore e anche professore quindi possiamo dire che abbiamo scoperto che se gli dovesse andare male come professore come scrittore può sempre mettersi a leggere le carte insomma No, le carte no, però mi piace molto l'umanità e io penso che la cosa che mi interessa di più è guardare le persone negli occhi guardare e sentire e ascoltare le storie delle persone quasi diventare amico delle persone proprio attraverso la conoscenza della storia ecco perché poi insegno anche storia e quindi e questo romanzo cosmico è un modo per indagare l'animo umano riscoprire l'umanità, l'essere umano con i suoi pregi, i suoi rifletti, con le sue imperfezioni e anche con la sua necessaria elevazione anche di coscienza, di coscienza civile e quindi più che fare le carte continuare ad osservare, a guardare e ad ascoltare le persone Grazie per quello segnali Grazie per la visione